La sua nascita nel 21 avviene a Parigi, ma appena sette anni dopo Charles Baudelaire perde il padre. Poco tempo dopo Baudelaire si trasferisce con la madre a Lione, dove al Collège Royal già dimostra però la sua anima insofferente, ribelle. Durante una rivolta tra bambini il ragazzino dodicenne scrive Io sono fra i ribelli, non voglio essere uno di quei leccaculo che hanno paura di dispiacere ai professori. Il 1936 vede la famiglia Hopic trasferirsi a Parigi, il ragazzo è ammesso al Collège Louis Le Grand, uno dei migliori istituti, ma nel 1939 eccolo espulso per essersi rifiutato di consegnare un biglietto datogli da un compagno. Si rifiuta di fare la spia. Il 1939 è l'anno della fuga dalla autorità familiare, Baudelaire ha 18 anni, inizia un periodo di vita libera e dissipata, lo stesso anno contrae una malattia venerea. Segno anche questo stimmate del suo frequente e intenso rapporto con il mondo della prostituzione. Nel 1941, a 20 anni esatti, finalmente lo vediamo partire per le Indie orientali, dove un consiglio di famiglia aveva pensato di mandarlo per distrarlo, per allontanarlo da queste tentazioni, frequentazioni di bordelli e sperpero di denaro. C'è da dire però che proprio in questo viaggio maturano alcuni tra i suoi testi più celebri, l'Albatros per esempio. Nel 1942, a 21 anni, diventato maggiorenne, chiede di entrare in possesso di una ricchissima eredità, 100.000 franchi oro. Nel 1857 esce Madame Bovary di Flaubert, escono Le Fleur du Mal di Baudelaire, entrambi i libri verranno portati di fronte al giudice, lo stesso magistrato sarà l'accusatore, Baudelaire dovrà togliere alcune poesie che parlavano per esempio di amori saffici, immaginate quindi quale fosse lo scandalo per quell'epoca. Da questo momento ha inizio una particolare trasformazione nello scrittore. Ancora pochi anni e cesserà del tutto di produrre versi. A 39 anni Baudelaire smette di frequentare la poesia, passerà al poemetto in prosa, quello che lui chiama poema in prosa, una musica nuova che non ha più a che fare con la metrica, evidentemente, una musica moderna, adatta ai tempi, adatta alla nuova città. Siamo nel 1866, a metà marzo visita la chiesa di Saint-Lou a Namur, Baudelaire inciampa sulla pavimentazione della chiesa, cade a un ictus che gli paralizza il lato destro. Viene ricoverato in un ospedale di suore che non tollerano però il suo ossessivo bestemmiare. La madre, qualche amico, lo va a riprendere e lo trasferisce a Parigi dove si spegnerà il 31 agosto del 67 dopo aver perso completamente la memoria, il linguaggio, la scrittura. Grazie a tutti.